Ci siamo, il Royal Wedding è arrivato e come ogni matrimonio che si rispetti, reale e non, è stato caratterizzato da un'abbondante dose di imprevisti, avvenuti tutti durante gli ultimi giorni e ore di preparazione. Vediamo per ora tutto quello che c'è da sapere sull'unione del secondo genito di Lady Diana e dell'ex attrice di Suz. Il matrimonio si terrà alle 12 ore di Londra, che corrispondono alle 13 ore italiana, la cerimonia inizierà dopo l'arrivo degli sposi e solo quando l'ex attrice americana scenderà dall'auto sapremo chi ha disegnato il suo abito. In Italia verrà trasmesso in tv, in diretta e in maniera integrale da real time, a partire dalle 11.30, con il commento di Katia Follesa, Enzo Miccio, Mara Maionchi e Giulia Valentina. Al termine della funzione religiosa, alle 14 ore italiana, gli sposi saliranno in carrozza per salutare le centinaia di migliaia di persone accorse a Windsor per vederli. Percorreranno la Long Walk, passeggiata che li ricondurrà al castello dopo circa 25 minuti. Solo in quel momento raggiungeranno gli invitati, 600, per il pranzo, nella St. George Hall del castello di Windsor. Alla sera invece cena e festa per pochi intimi, 200 invitati alla Frogmore House, location esclusiva di Windsor. Solo sabato sapremo se, come è accaduto a Kate Middleton, la regina conferirà alla sposa il titolo di duchessa del Sussex, il titolo più probabile secondo gli esperti.